Ok, ci prepariamo per fare la tartarda con una base di riso integrale. Di una tartarda possiamo fare anche più strati, l'importante è premere bene il primo strato per far più di lato e di tutto come fondo. Facciamo uno strato anche di riso venere, sempre cucito con esclusivamente olio extravergine di oliva e facciamo un contrasto con il riso integrale. E terminiamo con la base di pesce. Terminiamo con il tomo rosso, ovviamente tutto pesce a batturo e proveniente dal mare intermane. La condiamo sempre con olio extravergine di oliva. Sì, 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 sì. Io voglio papà, papà. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.